Anche l'Abruzzo ha aderito alla manifestazione nazionale a sostegno dei Navigator, lavoratori che si occupano dei beneficiari del reddito di cittadinanza. Una giornata di mobilitazione proclamata da Felsa, Cisl, Nidin CGL e Wiltab, con un presidio in prefettura all'Aquila. Un modo per testimoniare solidarietà ai 52 lavoratori abruzzesi coinvolti, ma anche per aprire una riflessione più ampia sulla delicatezza del loro ruolo. Si tratta di lavoratori vincitori di selezione pubblica, il cui contratto è scadenza il 30 aprile. Ad oggi sono oltre 30.000 beneficiari in Abruzzo del reddito di cittadinanza. La delegazione sindacale è stata ricevuta all'impegno del prefetto di presentare un documento dettagliato ed esplicativo della situazione dei lavoratori al Ministero, in modo da tutelare la delicata professionalità di queste figure, che al 30 aprile 2001 rischia di essere vanificata con grave aggravio dell'occupazione non solo dei lavoratori stessi, ma di tutti i lavoratori dai loro seguiti. L'auspicio dei sindacati e dei lavoratori è che si possa prevedere una continuità occupazionale stabile che vada oltre i contratti di collaborazione in essere e quindi che si preveda spazio nel piano di riforma dei centri dell'impiego in atto. Noi chiediamo soprattutto di ripensare al nostro ruolo, di ripensare alle politiche del lavoro in maniera veramente attiva. Purtroppo in questo periodo che abbiamo lavorato c'è stata una specie di prova. Di prova, è come se avessimo provato a testare il sistema e di certo la pandemia non ha aiutato anzi. Ci ha completamente inibito qualsiasi sorta di possibile attività che avremmo voluto fare, ma nonostante tutto siamo andati avanti, nonostante tutto i risultati ci sono stati, benché qualcuno ne dica. E quindi quello che noi chiediamo oggi è una proroga, un ripensamento del nostro ruolo in chiave attiva all'interno delle politiche attive del lavoro, così come c'era stato detto.